La segreteria provinciale CISL FP Salerno denuncia le precarie condizioni di lavoro che si trovano ad affrontare quotidianamente gli operatori impegnati presso tutti i reparti e quelli covid della DEA Vallo della Lucania Agropoli. Gli addetti ai lavori sono stremati per l'eccessivo carico di lavoro conseguente al perdurare della pandemia in atto, che allo Stato sembra di nuovo incalzare non arrestandosi nel contempo sono messi a dura prova con carenza abnorme di organico e conseguente mancato affiancamento di professionisti esperti. Inoltre è innegabile che i lavoratori sono costretti ad effettuare numerose ore di straordinario che effettuano con spirito di sacrificio e abnegazione al lavoro, ma cosa che influisce negativamente in quanto incide sulle possibilità concrete di recupero psicofisico e sulla qualità dei tempi di vita e di lavoro. Allo Stato attuale risultano in dotazione presso il Presidio ospedaliero di Agropoli nell'UOC terapia intensiva 25 infermieri di cui 3 in malattia per covid e 0 OSS, con 6 posti letto di terapia intensiva e 7 di subintensiva. Presso il Presidio sempre di Agropoli nell'UOC malattie infettive 22 infermieri di cui 3 in malattia covid con 20 posti letto effettuano terapia monoclonale mattina e pomeriggio con infermiere dedicato. Nello specifico mancano all'appello per la terapia intensiva e subintensiva 25 unità infermieristiche e almeno 6 operatori socio-sanitari nel mentre per l'adegenza di malattie infettive mancano 8 unità infermieristiche. Per quanto riguarda il Presidio ospedaliero di Vallo, dal 2020 ad oggi risulta una carenza inorganico di 30 unità infermieristiche al netto delle nuove assunzioni dovute a trasferimenti assenza per covid e pensionamenti. In aggiunta mancano 110 operatori socio-sanitari complessivamente in quanto risultano in servizio solo 5 unità. Inoltre abbiamo assistito all'accorpamento di molteplici reparti con riduzione dei posti letto per singola unità operativa al fine di arruolare il personale sul fronte covid. Continua la nota del segretario FP CISL Salerno Antonacchio. È di palmare evidenza che tale organico non copra il reale fabbisogno del personale che non rispetta neppure i protocolli minimi, atti a poter garantire il buon funzionamento del processo assistenziale. In definitiva, allo Stato è indispensabile ed urgente procedere all'assunzione di nuovo personale per garantire il corretto organico e per far osservare a tutti i dipendenti il riposo psicofisico, anche mediante l'utilizzo della graduatoria dell'avviso di manifestazione di interesse per il Presidio ospedaliero di Agropoli per 15 CPS infermiere del 3 settembre. 2021 allo Stato non ancora completamente utilizzata. Stante quanto sopraesposto e data la gravità della situazione, termina così la nota, la scrivente chiede ai vertici aziendali con somma urgenza di garantire la tutela del diritto alla salute dei lavoratori e metterli in condizione di poter garantire qualità assistenziale per la comunità di riferimento. Pertanto si chiede una risposta immediata attraverso un autorevole intervento da parte della Direzione Sanitaria alla grave criticità evidenziata e si invita a mettere in atto tutte le misure al fine di risolvere il problema, atteso che nel mentre si vigilerà sulla materia, qualora la situazione non venga risolta con immediatezza, si attiveranno azioni a tutela in quanto costretti non sottovalutando l'attivazione dello stato di agitazione.